Attenzione alle parole di consacrazione che sentite nelle vostre parrocchie. Perché le stanno cambiando? Parole sacrileghe alla Messa di Verona. Sbagliato. Prendete e mangiate tutti, questo è il mio corpo, dato per voi. La preghiera della Chiesa invece è la seguente. Prendete e mangiate tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Per la consacrazione del vino, le parole usate sono state le seguenti. Sbagliato. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, sparso per voi e per tutti in perdono dei peccati. Amatevi gli uni e gli altri come io vi ho amato. Questo fate in memoria di me. La preghiera di consacrazione usata dalla Chiesa dice Giusto, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per molti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Hanno aggiunto e cambiato termini, quindi la transustanzazione non c'è stata. Fate attenzione. Grazie. 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 Grazie.